Il mio nome è Leonardo Bellaccini, sono l'enologo di Agricola San Felice. Quest'anno ho celebrato la mia quarantesima vendemmia. Di sfide nella mia vita professionale ne ho avute molte. L'uomo è un animale dalla memoria corta, quindi ci ricordiamo delle ultime e la sfida del global warming è un qualcosa che sicuramente ci coinvolge tutti. A San Felice cerchiamo di affrontarlo con quello che viene definita un sistema di agricoltura rigenerativa. Quindi siamo passati dal concetto di lasciare un ambiente con le stesse caratteristiche, le stesse qualità con cui lo abbiamo trovato. Per noi è un concetto a cui bisogna andare oltre. e quindi cerchiamo di lasciarlo con una qualità ambientale anche migliore di come ce lo hanno consegnato i nostri predecessori.